lettera decima terza dal bannato 29 luglio 1811 rapito dietro l'ingegno del haydn e le diverse sue produzioni io abbandonai la vita di questo valentuomo condotto chi olebbi in casa esterasi riassumerò in questa il filo delle sue vicende poco importanti sembrar potrebbero queste a tal uno trattandosi di un privato ma acquistano non piccolo valore quando si riflette che questo privato segnò nella via delle umane cognizioni un nuovo sentiere e fu nella sua classe uomo da far epoca l'ammirazione e la parzialità che in noi destano somiglianti ingegni mercele loro opere si diffonde su tutto ciò che li risguarda e quindi visitiamo ancora con piacere la casuccia d'arqua e la vecchia scranna su cui petrarca scriveva i suoi trionfi e leggiamo con piacere nelle sue lettere familiari la distribuzione che i faceva dell'ore e li menomi giornalieri accidenti della sua vita i biografi di ogni età non hanno perciò mai mancato di porgere ai loro leggitori questo gradito pascolo nelle vite degli uomini per dottrina e per opere illustri quantunque dei grandi ingegni si domandi plutôt ce qui l'on fait che ce qui l'on était entrato l'haiden in casa esterasi si può dire che conosciuto il tenore di vita di uno dei suoi giorni quello si conoscesse di tutto l'anno si alzava sempre per tempo metteva in assetto il capo e la persona poi si poneva a tavolino dove veniva per lo più a coglierlo l'ora del pranzo egli travagliava con istento il che non proveniva da aridezza di fantasia lo studium sine di vite vena non era il suo difetto ma da delicatezza di gusto per cui egli era difficile ad accontentarsi nei propri lavori quando all'opposto largheggiava di indulgezza e di lodi verso quelli dei suoi colleghi una sinfonia gli costava un mese di tempo una messa più del doppio le sue minute sono pienissime di passi vi si trovano per una sinfonia sola idee da farne quattro o sei somigliano a quel foglio che si conservava nell'archivio di ferrara in cui l'ariosto aveva scritta in sedici maniere la bella ottava della tempesta e all'ultimo solo del foglio leggevasi la prescelta stendono le nubi un tenebroso velo quattro volte la settimana vera opera in palazzo ed allora l'haiden vi assisteva gli altri giorni li passava al cembalo e le sere alle prove fuori della caccia e della pesca non era amante di passatempi e rare volte ne prendeva la sua divisa era quella di una celebre accademia italiana altro piacere che in studiar non provo ne sembrerà possibile altrimenti se a ponderare si venga la quantità incredibile di lavori che mise fuori in meno di 50 anni avendo fatto suo mondo la camera ed isolatosi da tutti egli in quel tranquillo ritiro trasse dalla sua non distrattamente dotato com'era di inesauribili facoltà inventiva le tante maraviglie che tutti conoscono gluck per riscaldare la fantasia e trasportarsi in tauride o sparta o nell'erebo aveva duopo di situarsi nel mezzo d'un prato ivi col suo cembalo innanzi due bottiglie di champagne accanto a cielo scoperto e sotto la sferza del sole scriveva le due ifigenie i lamenti d'orfeo e le amorose tracotanze di paride sarti all'opposto voleva una camera grande vuota ed oscura funebremente rischiarata da una solitaria lampada appesa nel mezzo e soltanto nella più alta notte e nel più cupo silenzio trovava i pensieri musicali di questa fatta scrisse il medonte te sei il rondò mia speranza e la più bella aria che si conosca voglio dire la dolce compagna salieri invece il maestro della ragione deve fecondare la sua fantasia con l'uscir di casa scorrere per le vie più frequentate della città masticando confetti e col suo graffiarium e la cannuccia nelle mani gli è forza notar subito le idee felici che a volo gli passano per il capo paier cegliando fra gli amici parlando di mille cose sgridando i domestici disputando con la signora e coi figli ed accarezzando il cane scrisse la camilla il sargino e l'achille istessamente il cimarosa domandava strepido e voleva a sé intorno gli amici per comporre così gli nacquero gli orazzi e curiazzi e così il matrimonio segreto ed in esse malgrado alcune improprietà d'espressione la più bella la più ricca la più originale opera seria e la prima opera buffa del teatro italiano sacchini non trovava una cantilena se non gli stava la sua bella accanto e se i suoi gattini non gli scherzavano intorno e ben se ne risente di questo tenero e giocoso consorzio la graziosa e seducente sua musica il paesiello non saprebbe staccarsi dal suo letto componendo e nacquergli fra le lenzuola la nina il barbier di siviglia la molinara e tant'altri capi d'opera di quel genio inimitabile la lettura di un passo di qualche santo padre o di qualche classico latino è necessaria al zingarelli per improvvisare poi un atto intero del pirro o della giulietta e romeo o stendervelo in meno di quattro ore mi ricordo di un fratello di han fossi che prometteva moltissimo e morì giovane assai il quale non poteva scrivere una nota se non in mezzo a capponi arrostiti e salsicce fumanti e presciutti e stufati hayden come il newton solingo e raccolto nel suo sedile viaggiava per i cieli senza muoversi da tavolino e con l'anello di federico in dito quasi fosse l'anello d'angelica con cui invisibile vedesse tutto senza uopo da altri accitamenti la sua immaginazione lo trasportava in mezzo agli angeli e scoprire gli faceva le fonti della divina armonia quando tornava fra i mortali la caccia la boselli e gli amici dividevano il tempo che gli restava dallo studio questa monotona ma dolcissima vita durò per ben trent'anni fino a che visse il principe nicola signore suo padrone e cosa strana e ben curiosa che hayden non uscendo mai da heisenstadt fu il solo che ignorasse per lungo tempo la propria celebrità dopo vent'anni e non prima che si parlava di lui egli fu alla fine invitato dai direttori dei rinomati teatri di napoli lisbona venezia londra milano a comporre per essi ma l'amore alla quiete al padrone e dalla metodica sua giornaliera applicazione lo ritennero in patria malgrado il suo costante desiderio di veder l'italia morì la boselli e cominciò la hayden a sentire le noie di una mancanza nella sua giornata gli direttori del concerto spirituale di parigi lo ricercarono allora in buon tempo di colare carsi e dirigervi nella quaresima quelle accademie e comporvi delle sinfonie ma egli trattenuto da altri impegni non poteva accettare quell'invito un anno prima aveva l'ayden ricevuta da parigi la commissione di comporre certa musica vocale e chi allora gli scrivesse aveva giudicato opportuno di mandargli alcuni pezzi di lullì e di rameau siccome modelli del bello ai quali dovessi conformare il suo stile hayden rimandati a parigi quei pezzi aggiunse con socratica schiettezza che egli era hayden e non lullì o rameau e che se bramavano musica di quei due si rivolgessero ad essi o ai loro eredi mentre egli non poteva scrivere che della musica alla hayden e la cosa non andò più oltre finalmente il violinista salomon venuto da londra a vienna riuscì a indur hayden a recarsi seco lui a londra dove il salomon a gara col violinista kramer direttore del teatro di musica dava dei concerti s'avvide ben presto il salomon che ad attirare i dilettanti signori alle sue adunanze era duopo di un gran nome e di composizioni rare e nuove l'ayden riuniva tutto salomon guadagnò molto con questa speculazione ma non fu il solo il nostro maestro aveva 100 zecchini per concerto e se ne davano 20 l'anno nel 1790 in età di 59 anni partì l'ayden per londra e vi soggiornò più di un anno toccando di molte guinee anche per le diverse commissioni che ebbe da altri londra era perciò la sua favorita quando si parlava dei suoi viaggi gli avvennero cose curiose in questo primo soggiorno eccovene alcune che egli stesso mi raccontava un rico milor appassionato per la musica venne a trovarlo e gli chiese se voleva dargli lezioni di contrapunto ad una ghinea luna e libertà di dargliene quante ne voleva ben volentieri rispose il signor giuseppe quando vuole che incominciamo anche adesso soggiunge il lord e l'ayden bene incominciamo l'inglese allora si cava di tasca uno dei quartetti del hayden che egli si era messo in partitura e prevenendo il maestro che non aveva bisogno di imparare il basso fondamentale né le altre più ovvie leggi dell'armonia e del comporre gli disse per prima lezione esaminiamo questo vostro quartetto e datemi ragione di alcune modulazioni e di alcuni numeri nonché della condotta generale del componimento che io non approvo totalmente perché parmi contraria ai buoni principi hayden un po sorpreso da questo esordio ma sentendo in mezzo all'agro della riprensione il dolce della ghinea rispose modestamente che milord chiedesse pure che egli era pronto a giustificare il suo lavoro comincia milord dalle prime battute e trova a ridire di ogni nota l'ayden che non era avvezzo a parlare per grammatica e che scriveva sulle sue proprie regole ed esperienze piuttosto che per scolastici e freddi teoremi rispondeva laconicamente questo l'ho fatto perché va bene quest'altro perché fa buon effetto quello perché è necessario e simili e l'inglese a farsi da capo a provargli con le teorie alla mano che aveva fatto male e l'ayden a sostenere il contrario e dire milord riduca il quartetto a suo modo poi lo faccia suonare e vedrai in quale delle due maniere va meglio ma perché replicava milord deve andare meglio nella vostra perché perché va meglio e l'inglese sempre tornava da capo e nulla giovavano a l'ayden le sue asserzioni e proteste la cosa andò tanto avanti che alla fine hayden dimenticosi della guinea e preso da subita vivacità balzò in piedi e disse milord io credeva di insegnare a voi e vedo che voi volete insegnare a me perdonate io non sono in caso di pagarvi una guinea per lezione né dopo quel primo sperimento vuole mai più vedere questo troppo dotto scolare comica si fu ancor più la disputa che ebbe con un capitano di nave che partiva per l'indie questo galantuomo entra una mattina per tempo da hayden e gli dice voi siete il signor hayden per servirla bene io vi darò 30 guinee e voi mi farete una marcia per la banda che tengo sulla mia nave ma la voglio oggi perché domani parto per calcutta hayden sorpreso dalla generosità del capitano promette di darla per la mattina veniente corre al cembalo appena partito il committente e in un quarto d'ora si trova fatta la marcia sembrandogli di aver rubato i danari col guadagnar tanto in si breve tempo delibera di farne la sera un altro paio con l'idea di lasciarne al capitano la scelta o gareggiando di generosità regalargliele poi tutte difatti tornato più presto del solito a casa compone le due altre più studiate e secondo lui migliori assai della prima all'alba eccoti il capitano ebbene la marcia è fatta il capitano gli dice di suonarla hayden la suona il capitano senza proferire parola numera e lascia sul cembalo le 30 guinee prende la musica e si avvia hayden lo ferma sulla porta dicendogli ne ho fatte due altre sono migliori sentitele e scegliete il capitano risponde mi piace la prima e basta ma sentite l'altra forse non è possibile e già il capitano è fuori dalla stanza e a mezza scala hayden gli corre dietro gridando signore ve le regalo ma avete pagato anche troppo graditele il capitano volando ripeteva non è possibile non le voglio e l'ayden seguitava dall'alto ma sentitele almeno e l'altro il diavolo non me la farà sentire e giunto a piede la scala si mette la via tra le gambe e sparisce hayden piccato esce si informa qualsiasi il vascello che parte per le indie e chi lo comanda trova conto di tutto e fatto un rotolo delle due marce con un bel viglietto le manda a suo nome a bordo della nave per il signor capitano il credereste quest'uomo stravagante non volle nemmeno leggere il viglietto ed al volume accortosi di che si trattava rimandò al hayden il tutto come stava la notte levò l'ancora e parti con una marcia sola mi diceva hayden che aveva avuto per lungo tempo sempre davanti agli occhi la figura di quell'uomo singolare e che di rabbia aveva stracciate le due marce infelici quando se le vide tornare a casa ripudiate nota il signor diez racconta questo fatto con meno estensione e con qualche diversità non essenziale la ragione di queste nostre piccole discordanze si leggerà nell'ultima mia lettera e la darò con le parole stesse del signor diez intanto mi basta di dire che io ho scritto all'amico mio questo fatto come il hayden vegeto e robusto me lo narrò quattordici anni sono fine della nota mi raccontava pure con visibile compiacenza la sua lite con un mercante di musica dei più ricchi e meglio provvisti di londra un giorno bad alloccandosi l'ayden entra in una bottega di musica più per voglia di vedere che di comprare chiede al mercante se aveva musica bella e scelta quanta ne volete risponde ne ho della stupenda di hayden di questa dice hayden che sapete di non essere conosciuto non ne so che fare come ripiglia il mercante non sapete che fare della musica di hayden che ci trovate a ridire o molto soggiunge hayden e poi che monta non mi occorre vi dico mostratemi dell'altra il mercante che era un haydenista arrabbiato non serve risponde bruscamente ne ho ma non per voi e gli volta le spalle entra in quel momento per caso un signore e visto hayden lo saluta per nome il mercante al nome di hayden ritorna e dice all'inglese con dispetto eccovi uno che non ama la musica del grande hayden l'inglese prorompe in una risata palesa al mercante chi era quel pazzo che non voleva musica di hayden ognuno si immagini come restasse il negoziante e quali fossero i complimenti e le scuse e gli elogi che fece al suo caro maestro che aveva si bene accolto accogliendolo si male uno dei maggiori divertimenti per hayden a londra dopo quello di sentire le musiche dell'endel era l'intervenire al cosiddetto concerto antico non so se sappiate che in quel paese che si può dire il paese della società una ne fu eretta nel secolo decorso il cui scopo era di non lasciar perire la musica antica e per tale intendeva si quella di 50 o 60 anni indietro scritta cioè nel tempo che l'arte poggiava al suomo su apice di perfezione portata vi per mano dei pergolesi dei sarti dei durante degli endel dei leo dei cesti dei bonomi dei vinci dei latilla dei feo dei marcello dei lotti dei mancini dei scarlatti dei carcano dei bach dei sassoni e di tanti altri venerandi padri della bella musica in certi giorni fissati vi si eseguivano le migliori composizioni di quei maestri di color che sanno e nel mentre che si rendeva onore alla loro memoria si stabilivano dei confronti utilissimi con le opere dei più moderni si rilevavano i cambiamenti che andavano facendo l'arte ed il gusto e si ritardava con tali esempi la decadenza della quale generalmente parlando siamo minacciati al di d'oggi mercè il ticchio della stravaganza il diluvio delle note la frequenza e stranezza delle modulazioni e la soverchia prodigalità di passi di diversa indole infilzati gli uni sopra gli altri abusi che regnano nelle nostre composizioni per cui desse ben rare volte presentano un tutto una unità un sentimento scevra di questi vizi andava come ben sapete quella purissima scuola in mezzo agli elogi di un tale istituto tanto è vero ciò che in altra mia vi dissi della necessità di nuove cose nella musica mi confessava l'haiden che molti di quei componimenti i quali l'avevano imparadisato quando nella sua verde età li aveva uditi per la prima volta assai minor diletto gli aveva recato per riudirli tant'anni dopo per quanto ancora belli e pregevoli gli paressero avviene con la musica antica ciò che ci accade con le nostre belle allora che torniamo a rivederle dopo un gran tempo noi ci figuriamo di averle a ritrovare quali le lasciamo già ma quanto ci troviamo delusi la vista e la memoria ci parlano in due modi ben diversi la seconda dice era bellissima e l'altra soggiunge non è più quella ciò succede ancor più nella musica sebbene questa bella non cambi di forma e di colori e sia ognor la stessa pure per rapporto a noi invecchia ancora essa anzi noi stessi non siamo più quelli di una volta per rispetto a lei due volte fe l'haid nel viaggio a londra nel 1790 e nel 1794 lo indusse alla seconda gita il gallini impresario del teatro imacet impegnandolo a comporvi un'opera che si disegnava di dare col maggior sfarzo era l'orfeo ma in sul più bello che l'haiden stava componendo fu negato al gallini il permesso di aprire il teatro per essere stato costruito senza superiore permissione e l'orfeo restò sul tavolino del compositore undici pezzi soli ne rimangono esistenti e mi si dicono le migliori delle sue cose teatrali hayden cui la patria tornava in mente ogni ora non volle aspettare che venisse la licenza ad aprire il teatro e se ne tornò ai suoi penati da cui non si scostò mai più finché visse in questa seconda dimora frequentava hayden la casa della celebre cantante madama billington di cui era entusiasta da quanto vi scrissi in queste mie già avrete rilevato che egli aveva spirito prontezza e grazia nei suoi detti vi voglio narrare ora una sua risposta che degna saria del più elegante cortigiano quella virtuosa si era fatta ritrarre dal celebre reynolds il solo quasi non spregevole pittore figurista che la vara natura concedesse ad una nazione che tanto stima e paga i buoni quadri la billington vi era rappresentata in figura di una santa cecilia che gli occhi rivolti al cielo sta ascoltando un coro di angeli posti nell'alto in di cantare volle la billington che l'amico hayden vedesse questo ritratto e le dicesse il suo parere il nostro maestro dopo averlo osservato si volge alla signora e gli dice il ritratto è somigliante ma io vi trovo un grande errore quale reynolds era presente il pittore ripiglia hayden ha preso qui un equivoco madornale egli ha dipinta voi che state ascoltando gli angeli doveva dipingere gli angeli che stanno ascoltando voi la billington commossa al seducente elogio gittò le braccia al collo del critico gentile e con quelle labbra che inspirato avevano così graziosa riflessione lo ricompensò al momento della medesima è per la billington che hayden scrisse la sua ariana abbandonata che è in questo genere la migliore delle opere sue e non teme il confronto con la tanto applaudita del benda voglio prima di chiudere la presente narrarvene un'altra per provarvi quanto il bel sesso dovesse essere contento del nostro musico anacreonte il principe di galles bramoso di avere il ritratto del hayden ne incarica il suscitato reynolds sensibile a tanto onore si reca il maestro nello studio del pittore e questi si pone al lavoro ognuno sa quanto sia noioso lo starsene a far la statua davanti a un pittore ritrattista questa noia traspare d'ordinario nei ritratti anche i meglio condotti reynolds che voleva pingere per quanto poteva l'anima nonché il volto del celebre maestro si avvide che questi era tutt'altro in quella postura che non fosse al cembalo e dalla testa dell'orchestra e quindi cominciò a dirgli che si animasse che facesse la fisionomia allegra che pensasse a cose piacevoli hayden non era mai stato attore né cortigiano in vita sua non sapeva perciò alienum sumere vultum si annoiava e non trovava di dire col viso altrimenti di quello che sentiva nell'animo reynolds dove per quel giorno rinunciare al lavoro nel domani altra seduta ed altra noia si ripete l'esperimento una terza fiata e sempre la medesima scena alla fine reynolds se ne va dal principe gli espone l'impossibilità di fare quel ritratto e prega sua altezza reale a voler nero dispensare mentre non voleva farsi torto col dare ad un uomo si noto e dotato di una fantasia così vivace un'aria da mummia rise il principe al racconto e immaginò uno stratagemma che riuscì a meraviglia fu invitato per la quarta volta al narcotico telonio il buon maestro vi interviene egli e vi dispiega la solita fisionomia da gramaglia quando ecco che sedendo l'ayden il pittore tocca un ordigno sparisce una tela che a guisa di paravento trovasi innanzi al maestro ed appare una vaga fanciulla ridente vestita di bianco e coronata di rose che preso per mano il maestro gli dice nel natio di lui idioma quanto mi piace di vederti uomo amabile ed esser teco hayden sorpreso e spinto da impensata gioia abbraccia patrioticamente la sua concittadina spariscono dal di lui volto le cupe sembianze ritorna l'aidegno brio in quegli occhi e in quella faccia e reynolds affrettando i colpi ci fa un hayden bello gioioso esultante quale lo dice la sua musica la maga che operò si bella trasformazione era una cameriera della regina sassone di nazione aveva dello spirito e delle attrattive e l'operato prodigio non era per lei difficile impresa il principe di galles non fu il solo che distinguesse il hayden a londra il duca di york l'onorò pure assaissimo e fu a di lui richiesta che scrisse nel 1790 quel coro stupendo intitolato la tempesta con le parole del pinder il re stesso che come noto non amò in tutta la sua vita che una donna ed una musica la regina cioè e le composizioni di endel esempio rarissimo di costanza in ame due i generi non fu insensibile alle sinfonie del hayden le udì sempre con distinto piacere e ne onorò con elogi l'autore dal canto suo la regina che per rarissima combinazione o virtù amò sempre ciò chiamava il re vedendo il favore di cui godeva hayden si invogliò di ritenerlo a londra ed un giorno gli disse state con noi vi daremo una buona casa a windsor ed aggiunse ridendo io farò della musica con voi tet a tet ogni mattina il re che era presente soggiunse fate pure non sono geloso di hayden egli è un leale buon tedesco e di tanto replicò hayden mi gloriero osire finché vivo ma bellamente ricusò l'invito adducendo per scusa che sua moglie aborriva tanto l'acqua che non aveva mai voluto passare il danubio sul ponte meno poi vorrebbe varcare lo stretto di calè le vere ragioni però del suo rifiuto erano l'amore alla patria e dalla casa esterasi il re gli regalò una scatola d'oro e credessi che l'accennato rifiuto ritenesse sua maestà da fargli maggiori regali in un suo giornale in cui notò quanto gli avvenne di più rimarcabile in londra e gli narra altresì una festa che gli fu data da un ricco dilettante e l'accoglimento fatto gli dal già suo collega d'arte in oggi primo astronomo del secolo il celebre herschel nonché varie altre distinzioni con che venne onorato da ogni ceto di persone e singolarmente dal celebre dottor barney autore della storia della musica il quale pubblicò un suo poemetto in lode del haydn all'arrivo del medesimo in londra ne fu l'ultimo certo degli onori quello compartito gli dall'università di oxford col proclamarlo dottore di musica dignità accordata nemmeno al handel sin dal 1400 l'avevano ottenuta il parcel il saint vix l'habentong l'audboise ma per quanto so io ben pochi stranieri ne furono freggiati in ogni tempo in questa occasione haydn compose uno di quei suoi dotti scherzi ai quali aveva la mano si avvezza ed istituto che il candidato presenti all'università una sua composizione per saggio o regalo che sia haydn scrisse un foglio di musica che leggendosi a capriccio da sopra da sotto da mezzo dai lati e infine come voleva formava sempre una cantilena ed un periodo giusto e compito addio